Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci siamo tutti? Ci siamo. Bene, allora, come promesso, pochi minuti dopo le 18 siamo qua a rifare il punto anche perché l'allerta rossa sulle zone interessate da questo allarme è scattata esattamente 15 minuti fa. Al momento risulta che, dalle nostre previsioni, qua nel dettaglio Giacomo e il dottor Pecante vi diranno di più, al momento risulta che il modello di previsione che avevamo illustrato il giornale 14 viene esattamente confermato dal nostro sistema e poi se c'è qualche modo di modificato brevemente, ma è anche questo quello che ci conferma sostanzialmente il Dipartimento Nazionale con cui eravamo in collegamento pochi istanti fa. è anche di attivato perché questa perturbazione poi si posterà su altre regioni e su altri vaccini nelle ore a venire quando cesserà sulla nostra regione. C'è questa supercella, diciamo, la parte più concentrata della perturbazione che esattamente, stando ai grafici, diciamo, transiterà sulla parte centrale della nostra regione, quindi sull'area metropolitana di Genova, nelle prossime ore, credo, diciamo, che tra le 21 e le prime ore del mattino saranno le ore più complicate dal punto di vista delle precipitazioni. Come avrete visto diffusamente sono scattati tutti i sistemi di emergenze, anche tutte le precauzioni stabilite nei piani di protezione civile, della chiusura della regia da Renzano, dove era stato interessato dalla flana di Corderete della Milano-Sanremo, all'attivazione dei COC, all'attivazione delle prefetture, quindi per il momento non ci sono sostanziali evoluzioni, resta la preoccupazione e l'allerta perché le precipitazioni, come confermato dei modelli saranno certamente abbondanti e quindi continuo a ribadire, al di là della collaborazione e dell'attenzione di tutti i centri, qua con noi c'è anche Marco Bucci con il suo staff di protezione civile, come tutti gli altri COC attivati, la popolazione è la prima che deve, con un comportamento responsabile, aiutare tutti i volontari che ringraziamo, tutti i dirigenti funzionali della regione impegnati in queste ore e saranno impegnati per altre 24 ore di interrottamento, tutti i nostri provisori che ringraziamo l'interno della situazione, tutti gli osservatori a scuola che confermano quello che accade e quello che sappiamo dagli strumenti di rilevazione e quindi la sistema di protezione civile della regione Liguria ce la sta mettendo tutta, il Dipartimento Nazionale ci sta dando tutto il supporto tecnico possibile, ma le prime persone che devono avere atteggiamenti collaborativi e responsabili sono i cittadini nelle prossime ore e quindi evitiamo gli spostamenti ove non siano indispensabili per le più varie ragioni, sapete quali sono anche le aree più pericolose, la pulizia dei rivi e dei fiumi che Marco Bucci ha giustamente sottolineato aver fatto nell'ultimo mese certamente aiuterà un poco a mitigare il rischio idrogeologico, come le opere già concluse la forza del disagio per qualche cosa nella loro sezione idrica allargata dovrebbero confermare, siamo lontani da dire che i cantieri che abbiamo attivato già mai da mesi possono dare risultati pieni che avremo negli anni a venire. E quindi per essere la prima allerta di stagione sappiamo bene che ce ne saranno altri e direi complimenti a tutti perché la macchina ha funzionato fin dalle ore del pomeriggio di ieri in modo assolutamente efficace, preciso e puntuale con grande raffinatezza di previsione e grande capacità di mobilitazione. Giacomo? Direi che ho poco da aggiungere a quanto ha già detto il Presidente se non che evidentemente abbiamo adesso la fase più critica di quello che sarà questa perturbazione importante che sta arrivando, il punto che il Dipartimento è stato fondamentale per capire che il nostro livello previsionale è sostanzialmente allineato a quanto anche i previsori del Dipartimento Nazionale stanno prevedendo, proprio peraltro sulla nostra ragione di un fronte che ci auguriamo essere sicuramente veloce come passaggio, ma abbiamo già detto alla dottoressa Trovatore che qua con noi quello confermerà essere un fronte certamente importante, quindi il quadro è sostanzialmente confermato, aggiungo che evidentemente come previsione di allerta abbiamo tutti i nostri volontari schierati sui territori che sono in questo momento nella fase cosiddetta chiamata di monitoraggio e che serve evidentemente per dare poi quel supporto necessario in caso di prevenzione rispetto alle sondazioni di eventuali rivi minori in questo caso, ci attendiamo sicuramente che le prossime ore saranno molto impegnative, la sala per adesso e il Comune di Genova insieme a noi hanno fatto insieme a tanti altri comuni che sono coinvolti tutto quello che era necessario fare in attesa di questa perturbazione che come vediamo qua dalle finestre che abbiamo al nostro fianco inizia a fare quello che ci aspettiamo, cioè a dare un'intensità di pioggia importante, quindi ci aggiorniamo e ve lo dico anche a voi Marco col Dipartimento Nazionale, noi ci teremo in contatto in queste ore della serata e tutta la notte, il Dipartimento al momento ha aggiornato una riunione domani mattina alle 9 per fare evidentemente il punto rispetto a quello che sarà tutto il nostro lavoro di questa sera e di domani. Noi invece ci teniamo in contatto con le sale operative e alla bisogna, alla necessità di qualsiasi cosa ci ricolleghiamo e rifacciamo i punti necessari. Se siete d'accordo passerei la parola a Dottoressa Trovatore per confermare il quadro che abbiamo poc'anzi detto rispetto alle previsioni e poi se ci sono esigenze tecniche dal comune siamo a disposizione. Prego Dottoressa. Sì, dunque la perturbazione si sta transitando esattamente come previsto, devo dire come tempistica e come potenziale. In particolare si osserva proprio adesso sul Mar Ligure una sequenza di sistemi convettivi, quindi non singoli temporali ma proprio sistemi organizzati, una linea che appunto va ad impattare, andrà ad impattare le prossime ore lungo la nostra costa e sulla nostra regione. C'è un'intensa attività di fulminazione, da Rada si vedono appunto precipitazioni per ora più intense sul mare ma in avvicinamento. A questo punto diventa cruciale il monitoraggio, in particolare per esempio quello che riguarda i venti, i flussi. Quindi abbiamo appunto dall'ultima rilevazione del satellite dei flussi da sud-ovest che confermano lo spostamento di queste celle convettive verso la regione, nello stesso tempo lungo costa sul Levante cominciano i venti a ruotare da sud-est e quindi questo crea proprio un sistema di convergenza di flussi che è quello che poi potrà riportare a fenomeni particolarmente insistenti. Si tratta di monitorare in particolare nelle prossime ore se i luci più intensi si avranno sul Genovese piuttosto che sulla parte più orientale dell'area V, quindi a questo punto si tratta di seguire passo passo la perturbazione e vedere dove le precipitazioni più violente potranno scaricarsi. Però il quadro complessivo è quello delineato stamattina. Prego Sindaco. Marco, dalla città. Sì, un paio di cose. Prima di tutto ovviamente le previsioni che sono state appena dette e la situazione come descritta è assolutamente confermata anche qui quindi diciamo tutti i nostri previsori sono assolutamente allineati, direi che hanno tutti fatto un grande lavoro e dal punto di vista tecnologico direi che siamo in grado di poter, per fortuna, le nostre risorse sono in grado di fare questo tipo di previsione questo per me è estremamente importante. Tutte le persone sul territorio sono in posto in questo momento abbiamo da 12 a 16 cancelli operativi che sono quelli che sono posti a fermare il traffico in caso di intensità sul territorio e ovviamente abbiamo tutte le squadre di emergenza pronte all'azione. Noi ci rivedremo sicuramente domani a fine alle 9 però siamo, ogni paio d'ore saremo in collegamento qui con le persone sul territorio per vedere com'è la situazione. Siamo pronti e sono certo che siamo ben organizzati quindi penso che supereremo le difficoltà senza alcun problema. Marco, noi possiamo anche risentirci stanotte e poi vediamo se c'è bisogno. A questo punto noi diamo un aggiornamento, un messaggio di monitoraggio che trovate sul sito di Allerta Liguria con cadenza almeno trioraria. Naturalmente se ci sono fenomeni più intensi andiamo a intensificare questa messaggistica. Si prosegue l'attività di monitoraggio. Perfetto. Comunque ci aggiorniamo verso il 9 e vediamo se è caso poi di fare un punto a che livello se si fermano gli assessori con i nostri tecnici o se ci ricolleghiamo direttamente in una seconda serata. Vediamo un po' come evolve la nottata. Va bene. Grazie. Ciao Marco, ciao a tutti. Grazie a voi. Grazie a voi.